Buongiorno e benvenuti alla resegna stampa di oggi, lunedì 15 marzo 2021, buon inizio settimana. Cari telespettatori siete sul canale 17 anche oggi per iniziare questa nuova giornata insieme e iniziarla con l'informazione regionale, l'informazione locale e dare dunque uno sguardo ai giornali che abbiamo preparato per voi, ai titoli e commentarli insieme. Iniziamo però prima dal santo, vediamolo subito, il santo di oggi, anzi la santa è Santa Luisa de Marilac. Il sole è sorto alle 6.24 e tramonterà alle 18.16, adesso diamo uno sguardo anche al tempo. E lo facciamo grazie alla collaborazione con trebimeteo.com che per la giornata di oggi, mattinata, prevede cielo sereno con sole ovunque, c'è una bellissima giornata fredda perché c'è anche un po' di ghiaccio, soprattutto sui parabrezze, quindi organizzatevi questa mattina se avete fretta di uscire con la macchina, ma andate piano insomma perché è ancora freschino. Nel pomeriggio qualche velatura, la sera ancora nuvole ma diciamo che la giornata insomma proseguirà su questo fronte insomma in maniera tranquilla. Poi la giornata di domani invece, come vedete, già questa è la notte, poi nella mattinata di domani il tempo inizierà ad essere perturbato dall'Anconetano, tutta la costa fermana, poi tutta la provincia di Ascoli Piceno fino all'entroterra, ma di questo poi ne parleremo ancora domani. Intanto c'è un secondo lotto di AstraZeneca, il vaccino che è stato bloccato dopo una morte sospetta in Piemonte, le Marche hanno bloccato questo secondo lotto, quindi un altro lotto rispetto al primo, è stato bloccato, ovviamente servirà questo tutto per cautela insomma, ovviamente per proteggere i pazienti, però è stato bloccato e quindi di fatto aumenta la preoccupazione nei confronti di questo vaccino, anche se questa mattina sono in tanti a metterle mani avanti, a dire che questo vaccino, l'AstraZeneca, è sicuro. Andiamo a vedere i titoli allora, partiamo dal Corriere Adriatico. Il Corriere Adriatico di oggi, Siero, l'edizione di Pesero, Siero a casa, quindi il vaccino a casa, falsa partenza. Sono 811 gli anziani che hanno diritto alla profilassia a domicilio, parliamo della provincia di Pesero Urbino, 500 i medici ora disponibili, unità di crisi stretta sui vaccini, sospeso anche nelle Marche, il secondo lotto di AstraZeneca. A centropagina la protesta invece dei genitori, noi i dimenticati a distanza, sono genitori che vorrebbero riportare i figli a scuola. Mentre di sotto, in breve, per la pista ciclabile di Pesero, Vismara-Torraccia è l'ora della variante. Poi a Fano, Assessore Sceriffo, ferma i furbetti del circuito Marconi. A Urbino, Tomba di Raffaello, la copia trova sede dai carmelitani. Poi lo Sport, con la Vis e il Fano, una domenica da dimenticare, due sconfitte, poi la VL battuta 81 a 68 a Varese. Il resto del calino di Pesero, allarme rosso, VL ancora KO, mentre male vanno anche Vis e Fano. Il titolo invece è d'apertura, bloccato, altro lotto di AstraZeneca. Unità di crisi in regione, nel mirino le dosi del caso in Piemonte. Ospedali stop a interventi non urgenti. Poi, come vedremo all'interno, nelle pagine interne, i no mask, cioè quelli che non vogliono mettere la mascherina, sono stati multati in Piazza Lazzarini. Poi cala il rapporto tra tamponi e contagi. C'è un piccolo spiraglio nei dati che sono in possesso quelli della Regione. Poi si parte oggi con i vaccini da casa, ma anche in ambulatorio, tocca i medici dunque di famiglia e poi le mamme in piazza contro la didattica, la distanza. E sotto invece il ricordo di Raul Casadei da parte di un altro musicista, famosissimo Edgardo Gelli. La voce di Romagna dalla sua Fermignano ricorda l'amico morto, il re del liscio. Poi dietro le quinte, Ivan Cottini era pronto per Sanremo, dovevo fare un omaggio a Dorazio, concordato con Facchinetti. Dorazio, il batterista di Puc, è morto qualche mese fa. Il carlino di Ancona invece, questa è la fotonotizia dedicata al campione, all'atleta nazionale di salto in alto, Tamberi, che è positivo dopo gli europei. Un salto nel Covid, il titolo, mai abbassare la guardia, dice lui, state attenti, io vivevo in una bolla, eppure mi sono contagiato lo stesso. Poi in una tragedia, Torrette di Ancona, la vittima aveva 87 anni, entra nella rotatoria e si schianta contro i vigili del fuoco, forse un malore. Poi il virus colpisce a Filotrano anche le suore del monastero di Santa Chiara. I contagi fanno paura, titolo del Corriere Adriatico, la regione potenzia il tracciamento Covid, stanziati ulteriori 300 mila euro per sostenere il contact tracing Azure. Il governatore dice altre 30 persone per non perdere il controllo dei casi. E poi c'è un intervento di Sabatini, che è il presidente della Camera di Commercio delle Marche, che guarda sconsolato ai dati dell'export 2020, a quel dato negativo, meno 11,7%, chiamatelo come volete, ma lui chiede il passaporto vaccinale, che spera, anzi dice, dovrà essere operativo entro la prossima estate. I privati si riorganizzano altri 100 posti letto Covid per sostenere gli ospedali. A pagina 3 del Corriere Adriatico, Romani, dopo la richiesta della regione, pronti a collaborare. Intanto a Torrette di Ancona, vertice per aumentare terapie intensive e reparti Covid, l'idea di reperire personale, attingendo anche dal Lancisi. È stretta sulle vaccinazioni, ma la regione sospende un secondo lotto di AstraZeneca. Ieri c'è stata un'unità di crisi con tutti i vertici della sanità per decidere le prossime mosse anti-Covid. L'assessore Saltamartini dice uno stop precauzionale dopo il decesso avvenuto in Piemonte. Si tratta della fornitura con il numero ABV5811, le cui dosi sarebbero già in parte state inoculate fra i vaccinate delle Forze dell'Ordine e del personale scolastico. Abbiamo provveduto in serata a fermare il lotto in questione, ha spiegato Saltamartini in via precauzionale, esattamente come è avvenuto con il precedente. E poi a riguardo va detto che l'AIFA ha già dichiarato che non esiste nessuna casualità dimostrata tra il decesso e la somministrazione del farmaco e che le attività di farmacovigilanza proseguono sia a livello nazionale che europeo. AI farà sicura fortemente i cittadini sulla sicurezza del vaccino AstraZeneca. Vaccini a domicilio, una farsa partenza troppe incognite, sono 811 gli anziani che hanno diritto alla profilassi direttamente a casa. 55 medici sono ora disponibili, organizzate 4 equip per l'utilizzo completo delle fiale. Oggi c'è una nuova videoconferenza. Intanto panico a AstraZeneca è stato un ritiro cautelativo, le conseguenze sono tutte da verificare. Siamo sulle pagine di Pesaro del Corriere Adriatico. E quindi sono in tanti a rassicurare, anche perché oggi si riprende con i vaccini, a rassicurare che AstraZeneca è comunque un farmaco sicuro o perlomeno ha effetti corlaterali come altri, come tutti i farmaci. Le USCA, oppresse di lavoro, arriviamo a 80 chiamate al giorno, triplicato il numero di pazienti Covid che richiedono cura a domicilio. Sono persone che chiedono questo intervento a casa, sono medici di continuità che sono in prima linea. Da giorni continua a salire la pressione per il numero di visite anche su pazienti in giovane età o nuclei familiari di mezza età che si sono aggravati. Una pressione per numero di contagi e malati a casa che torna a farsi sentire in modo importante. Colpa anche della diffusione rapida delle varianti, così come dice Gregorio Bucci, che è il coordinatore USCA di Pesaro. E aggiunge, basti pensare che fino a dicembre, al momento del primo vero picco della seconda ondata, i 20 medici di continuità assistenziale erano arrivati a trattare anche mille chiamate fra malati Covid in più serie condizioni e pauci sintomatici, visitando 800 pazienti. E per diversi di loro sono state necessarie più visite consecutive, scrive Letizia Francesconi in questo articolo sul Corriere Adriatico. La pagina 3 invece del resto del carino. Caos vaccini, ospedali in sofferenza, unità di crisi in regione, bloccato un altro lotto di AstraZeneca dopo il caso Piemonte, Pfizer è finito, stop agli interventi non urgenti. Come vedete dunque, se fino adesso negli ospedali era stata comunque garantita la continuità nelle operazioni, operazioni chirurgiche e quant'altro, adesso non è più possibile. Anche ieri parlavo con una persona che lavora in ospedale, insomma sono state molti dirottati nei reparti Covid, da Pesaro hanno riaperto la quarta rianimazione, quindi non ci sono più le ferie, è saltato tutto, è saltato il riposo, è saltato le ferie. E quindi tutte quelle persone che vanno in giro senza mascherina, ne ho viste tante anche l'altro giorno, davanti ai bar, alle 6 del pomeriggio, con la bottiglia di birra, senza mascherine, tutti assembrati come se niente fosse. Ecco, dovrebbero pensare anche a queste persone che invece sono lì al lavoro. Ma non è populismo, è questione di cultura, è questione di sensibilità, è questione che purtroppo non c'è niente da fare. È così. AstraZeneca, stop a un lotto in Piemonte e Marche, l'Agenzia del Farmaco però dice, anzi garantisce, è sicuro. L'azienda anglo-svedese rompe il silenzio e cita i dati. Nessun aumento di rischio per quanto riguarda embolia polmonare o trombosi. Dunque le autorità di farmacovigilanza rassicurano, così come fa anche l'azienda che li produce, ecco, ha rotto dunque il silenzio, ma dopo alcune morti avvenute dopo la vaccinazione con il siero del colosso anglo-svedese, alcune procure senza drammatizzare vogliono vederci chiaro, come è giusto che sia le procure di Siracusa, di Messina, di Bologna, di Napoli e anche quella di Gela che indagano su morti o forti reazioni allergiche di persone alle quali erano state somministrate dosi del lotto ABV 28-56 e anche il lotto che abbiamo visto 58-11. Ieri l'unità di crisi della regione Piemonte ha infatti sospeso per un paio d'ore la somministrazione del vaccino per identificare il lotto che era stato somministrato a Sandro Tognatti, che è un insegnante di clarinetto del conservatorio di Novara che poi è morto purtroppo ieri subito dopo la vaccinazione. Il lotto, cioè all'indomani, non subito dopo scusate, all'indomani della vaccinazione. Il lotto appunto è stato bloccato mentre per gli altri la vaccinazione è ripresa e la sospensione, lo ribadiamo, è un atto di estrema prudenza in attesa delle verifiche. Stessa decisione è stata presa anche dalla regione Marche che ha sostituito il lotto con un altro. E chiaramente non so se questo può bastare per convincere eccetera. Però, insomma, poi è anche vero che molte persone, arrivate ad una certa età, quando hanno ai 90 anni la paura del vaccino di AstraZeneca ce l'hanno più i parenti, i famigli, i figli, le figlie, i parenti che accompagnano piuttosto che le persone stesse. Perché a 90 anni, voglio dire, uno non ha più paura, voglio dire, della morte. Nel senso, poi la morte fa sempre paura, ma a 90 anni ne ha molta di meno. E quindi il panico lo generano più chi gli sta vicino, chi l'accompagna, che altro. Ma questa è un'altra cosa. Pietato buttare dosi. Ecco l'altro titolo. Chi passa va vaccinato. Il generale cambia strategia. Il generale è quello che ha preso il posto di Arcuri. Tutti arruolati, Figliuolo, che è il generale, appunto, accelera le iniezioni, Pfizer aumenta la produzione e assicura che non ci saranno più ritardi, rallenta la curva dei contagi, picco forse già prima del 20 di marzo. Dunque, 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 insomma, l'ordine, la parola d'ordine è vaccinare. Vaccinare tutti. Adesso si arriverà anche a vaccinare nelle grandi aziende, per esempio. Si cercherà di fare un po' come hanno fatto, per esempio, in Israele. In Israele, ricorderete, l'abbiamo, credo, anche detto qui in rassegna stampa, in Israele hanno vaccinato persino fuori dai pub. Gli davano un buono, un buono poi per andarsi a mangiare una pizza, un po' come si fa da noi quando vai a donare il sangue all'Avis. Siero a casa, gli over 80 in lista sono 811, questo l'abbiamo già visto. Elisabetta Esposto dice da quando si comincia serviranno circa 10 giorni per finire le operazioni. Poi solo AstraZeneca ci adattiamo, non possono scegliere i pazienti. Riccardo Almeda, che ha 1.500 persone assistite, è uno dei camici bianchi storici della città di Pesaro, parla della sua esperienza, dice oggi ho l'ambulatorio, non riuscirò a ritirare le dosi, ma una volta che parto voglio finire presto. E sulla questione del vaccino dice sì, c'è solo AstraZeneca, vedremo, bisogna, e se uno ha paura, gli domanda Alessandro Mazzanti, se uno ha paura e non vuole fare questo vaccino, risponde il medico pesarese. Bisogna motivarlo, i pazienti se non lo vogliono non lo fanno, ma non è che scelgono loro, si fa il vaccino che c'è. Se è in commercio vuol dire che è sicuro, e gli effetti collaterali ci sono come ci sono per qualsiasi farmaco. Sulla pagina 5 del Corriere Adriatico, Outing Tamberi, sono positivo, attenti al Covid, Gimbo contagiato agli europei in Polonia, ma ora sto bene, il 28enne ha deciso di affidare ai social il suo outing, cioè di dirlo attraverso i social, ho aspettato qualche giorno a dirvelo, amici miei, aspettavo di stare di nuovo bene, trovare le parole giuste. Intanto Brandoni dice, il dottor Gabriele Brandoni dice, in 20 giorni tornerà a volare, volare perché è campione nazionale di salto in alto. Andiamo di nuovo a Pesero, pagina 4 del resto del carino, mamma in piazza, stop didattica a distanza, manifestazione sotto il loggiato del comune, del comitato PAS, che è priorità alla scuola. Loro del comitato chiedono di riaprire in sicurezza gli istituti, perché si può. Dobbiamo chiedere aiuto ai nonni, come un anno fa, e loro adesso. Loro sono più a rischio. Questa è la richiesta, appunto, che trova spazio anche a pagina 11 del Corriere, noi i dimenticati a distanza, i genitori sono per il ritorno in aula, hanno sfidato la pioggia manifestando in piazza insieme agli insegnanti e ai figli. Speriamo nella didattica, in presenza, in sicurezza, almeno dopo le feste pasquali. E se queste mamme, che ieri hanno sfidato a Pesero, che hanno sfidato la pioggia, oggi hanno la possibilità di leggere, a pagina 23 del Corriere, questo articolo, magari si mettono un po' più l'anima in pace. Guardate questa fotografia, è una famiglia, una famiglia con mamma, papà, e poi tutti i figli, guardate quanti sono. La famiglia è la famiglia di Montefano, Carlo Vescovi, Rossella Accattoli, e tutti i loro dieci figli. È una famiglia numerosa, anche famosa, perché di loro si è parlato più volte. E dice, ai tempi del Covid, in didattica a distanza, con dieci figli, la nostra vita tra tablet, cuffiette e PC computer. L'esperienza dei Vescovi di Montefano, mamma Rossella dice, con l'aiuto di Dio, ce la faremo. E adesso, a pagina 8, invece, del Carlino, i contagi in aumento, senza sosta a Senigallia, tra i comuni più colpiti dal Covid, ci sono anche, a Montemarciano, Trecastelli, Ostra, Barbare e Corrinaldo. Secondo i tecnici, l'aumento del numero di positivi, proseguirà per almeno altri dieci giorni. E questa è la fotografia, che invece ieri, è arrivata anche nella nostra redazione, sta facendo il giro dei social, del web. È un gruppetto di no mask, cioè coloro che viaggiano, girano senza mascherina, spavalli senza mascherina, però accerchiati, da due pattuglie delle volanti, ieri in piazzale della Libertà. Sono state identificate queste persone, che qualcuno giustamente aveva segnalato questo gruppo, a questo punto io direi che è la cosa migliore da fare. Appena uno vede un gruppetto di persone senza mascherina, segnali. Chi faccia il numero 112, 113, chiami e dica subito, immediatamente, qual è il luogo, dov'è, com'è e buonanotte. E così, magari facendo questa azione, forse qualcosa si risolve. Non lo so, forse, ma intanto è già qualcosa. Avere il fiato sul collo. Dai ricongiungimenti ai negozi per l'infanzia, ecco cosa si deve sapere. Il governo ha pubblicato le domande e risposte che illustrano nel dettaglio il decreto. Oggi le marche entrano in zona rossa, tutte le marche, quindi anche la provincia, di Ascoli Piceno. Molte sono le limitazioni da seguire. Adesso evitiamo di stare qui a fare l'elenco. Comunque a pagina 7 le trovate nel Corriere Adriatico di oggi. Adesso la pagina di Fano invece del Corriere con la notizia della scorribanda al circuito Marconi. Sono state divelte alcune recinzioni. L'assessore in incognito ferma 5 persone. L'area ora sarà costantemente presidiata dalla municipale. L'assessore Brunori dice menefreghismo assoluto pur di allenarsi. E ieri vedete questi vigili che presideranno quest'area importante che è sempre molto frequentata ma che in questo momento per ovvie ragioni deve essere in qualche modo chiusa. Percorsi pedonali da Foroboari a Via Cavour. Sempre da Fano si lavora per creare un asse dal parcheggio al centro storico e ZTL in Via Giordano Bruno. A Lucrezia invece il resto del Carlino Lucrezia saccheggio sventato. I ladri puntano sul Conad in piena notte ma prima una guardia giurata e poi i carabinieri intervengono. Dunque un saccheggio che è fallito. I ladri hanno scardinato una porta poi però sono fuggiti a mani vuote. È successo tra sabato e domenica notte al supermercato Conazzidi siti di Lucrezia di Cartoceto in Via Vespucci in pieno centro. una guardia giurata intorno alle 3.20 durante il consueto giro di perlustrazione ha notato una porta secondaria del market semi aperta. E poi novità per le famiglie di Fano, San Costanzo e Terre Roveresche. In arrivo altri buoni spesa per le famiglie in difficoltà economica. E poi sotto una grande elusione il no di Sanremo. Ivan Cottini aveva preparato un omaggio a Stefano Dorazio con l'assenso di Facchinetti ma il Covid ha bloccato tutto. Questo ballo va fatto. Prepararmi è costato un grande sacrificio. Non voglio mollare. Spero di poterlo fare. Intanto Foghetti a pagina 16 del Corriere Adriatico di Fano racconta la storia di Sara Franchini che è hostess di professione nella Compagnia L'Italia. Risiede a Fano e lei dice in volo sono più sicura che a passeggio. Così il Covid ha rivoluzionato le hostess dai viaggi top class con Richard Gere passeggero allo scafandro da medico e il racconto della fanese appunto Sandra Franceschini, Sara Franceschini. Una donna tossiva con insistenza con il suo volere racconta lei è stata isolata anche se era negativa. Andiamo invece sulla pagina adesso set di nuovo del resto del carino perché Edgardo Gelli, noto come la voce di Romagna ha trascorso una vita in tournée con il re del liscio Raul Casadei morto sabato scorso. Edgardo Gelli lo vedete in questa fotografia e racconta da Fermignano la scomparsa del suo caro amico Raul Casadei conosciuto da tutti come re del liscio morto sabato 83 anni all'ospedale Buffalin di Cesena dove era ricoverato dagli inizi di marzo a causa del Covid-19. Eravamo sempre insieme nel Pullman dice nel 1962 mi aveva fatto incidere un disco poi dal 69 il mio esordio con lui e c'è tutto il racconto Sanremo nel 74 un'esperienza unica abbiamo condiviso anni meravigliosi vedete Edgardo Gelli e poi sotto Raul Casadei per lui niente funerale dice Mirko il figlio ha detto mio padre non voleva riti funebri quindi lo diceva anche quando era in vita ha detto quando pensate a me ballate e quindi ha espresso questa volontà di non fargli il funerale. Ciclabile Vismara-Torraccia la variante è il prossimo step da Pesaro costerà quasi un milione la minoranza chiede chiarimenti e annuncia un sopralluogo intanto oggi l'addio ad Alessandra Ciolli nella chiesa di Cristorea alle 15 l'ultimo saluto alla signora della comunicazione e da Vallefoglia con il rosso tornano i furbetti dei rifiuti i divani e sedili arredano i fossi e le strade il centro di raccolta differenziata chiuso per il lockdown la consigliera Nicolini dice quel servizio serve da Pecchio invece parco eolico storia infinita ricorso entro il 3 di maggio dopo la bocciatura al Tar resta il Consiglio di Stato in ballo 140 mila euro la tomba di Raffaello a Urbino ha trovato la sede sarà nella chiesa dei carmelitani scalzi la coppia contesa verrà posizionata all'interno luogo strategico vicino alla statua e alla casa natale poi sempre dalle pagine interne del Corriere Adriatico da San Lorenzo in campo il verde va protetto e curato ma nel segno della sicurezza dell'Onti il sindaco dice abbiamo investito 15 mila euro per giardini pubblici mentre da San Costanzo buoni spesa da oggi si possono richiedere e sotto da Pecchio in vaso a San Martino soluzione forzata tre grandi associazioni ambientaliste contestano l'indicazione quella zona è rara e preziosa da Senigallia invece guardate questa fotografia di un papà che ha dovuto chiudere o torto collo il suo il suo ristorante però ha organizzato con i figli e il maxi schermo nella sua pizzeria chiusa un cinema una sorta di cinema il regalo del papà ristoratore bambine vi porto al cinema film davanti al maxi schermo della sua pizzeria chiusa assaggio di normalità andiamo invece adesso a vedere velocemente le pagine dello sport perché come dicevamo in apertura non è andata bene né per il Fano né per la Vis Legnago la squadra di casa vince 3 a 0 sul Fano nessuna traccia del Fano padrone di casa subito a segno è partita praticamente chiusa ancora prima dell'intervallo quinto impegno in due settimane l'alibi non tiene la lotta salvezza adesso si fa sempre più dura intanto chiediamo scusa ai tifosi tutta la rabbia del presidente Fattò Offidani molli e insicuri dice lui sovrastati dall'inizio alla fine dopo uno schiaffo così bisogna compattarsi mercoledì contro l'Arezzo ci giochiamo tanto la Vis in casa perde 3 a 1 contro la Samb la Samb fa tris visca pao la differenza sta nei due portieri Bertinato è colpevole ai suoi primi due gol Nobile è molto attento tutte le reti nella prima frazione di gioco nella ripresa il vicino Marchi sbaglia un calcio di rigore bisogna buttarla dentro dice il tecnico della Vis di Donato scontento del risultato si consola con la buona prestazione abbiamo fallito troppe occasioni è una squadra esperta come la Samba ne ha approfittato e dicevamo anche la WL quindi il basket insomma non è riuscito a portare a casa il risultato WL tante pause Varese ringrazia e c'entra la vittoria Scola decisivo in avvio di partita Carpegna prosciutto poco incisiva alla fine Varese vince 81 a 68 in casa la rimonta finale sono un'illusione secondo stop di fila per la squadra pesarese e con questo chiudiamo qui la nostra rassegna stampa vi ricordo alle 20.30 il telegiornale occhio la notizia e poi subito dopo c'è l'appuntamento in diretta con primo cittadino ospite di Simona Zonghetti c'è il sindaco di Bravissimo il nostro regista sempre molto attento grazie per averci seguito a voi tutti l'augurio di una buona giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti